ciao a tutti amici di vanilla in questo momento di restrizioni con regioni e zone rosse ho pensato di portarvi a visitare una piccola cittadina romagnola situata sull'appennino tosco emiliano di nome brisighella che fa parte dei borghi più belli d'italia naturalmente con i fanaoni egizi e i giganti non ha molto a che vedere ma parlare di storia in un luogo tanto bello è un esercizio che fa bene al cuore e alla menta oggi vedremo quindi la storia del faraone sanacht un vero e proprio gigante per la propria epoca e di augustin luengo capia un gigante affetto da acromegalia molto più moderno il faraone sanacht vissuto oltre 4.700 anni fa nell'antico egitto potrebbe rappresentare il primo caso registrato di gigantismo nella storia lo afferma uno studio dell'università di zurigo che ha esaminato i resti di questo antichissimo faraone come è noto i giganti sono anche personaggi fantastici che si ritrovano nelle leggende non rene nella mitologia greca ma anche nelle leggende dei nativi americani come accade sovente le leggende nascono da storpiature o esagerazioni di fatti reali il gigantismo è infatti una condizione clinica che si verifica quando il corpo produce in modo anomalo l'ormone della crescita prima di continuare a parlare di sanacht e augustin lasciatemi chiedere a quei sei spettatori su dieci non iscritti di cliccare sul tasto iscriviti ed entrare a far parte di questa community mi sto rivolgendo questo appello da un luogo molto particolare di brisighella questa è una via che è detta degli asimi perché qui gli animali passavano trasportando materiale dalle vicine cave di gesso il motivo per il quale dovreste iscrivervi a un canale di divulgazione culturale come vanilla magazine ma anche ad altri su youtube che in questo periodo stanno facendo dei video molto interessanti credo possa essere intuito dal nome che caratterizza questo percorso coperto da archi di ampiezze differenti se non arriveremo presto a cinque iscritti su dieci spettatori potrei dedicare il mio tempo a scrivere una versione moderna di pinocchio il romanzo di carlo collodi e ho già in mente qualcuno come compagno di giochi dell'amico romeo del burattino romeo sì detto anche lucignolo peraltro ho trovato anche una bellissima statua in latta di pinocchio e a corrobarare appunto la mia la mia tesla sui sei iscritti su dieci nell'ambito della continua ricerca sulle mummie dell'antico egitto alcuni scienziati dell'istituto di medicina evoluzionistica dell'università degli studi di zurigo hanno verificato che la mummia di un antichissimo faraone della terza dinastia san act potrebbe avere le caratteristiche per essere considerato il primo gigante della storia michael habicht studioso coautore della ricerca afferma infatti che san act raggiunse un'altezza di 1,98 metri quando la media degli uomini del suo stesso periodo era di circa 1,7 metri 1,7 metri la mummia dell'antico faraone fu trovata in una tomba vicino a beit calaf nel 1901 e le sue ossa furono datate da studi precedenti al 2700 a.c. nello studio habicht e i suoi colleghi hanno esaminato nuovamente il presunto teschio e le ossa di san act le ossa lunghe dello scheletro mostravano prove di crescita esuberante interpretati come chiari segni di gigantismo questi risultati suggeriscono come questo antichissimo faraone un vero e proprio gigante per la propria epoca alto circa 30 centimetri in più rispetto alla media e costituisce la prima mummia egizia in cui è stata riscontrata questa condizione clinica il professor habicht ha spiegato che studiare lo sviluppo evolutivo delle malattie è importante per la medicina di oggi nelle prime dinastie egizie venivano preferiti gli uomini bassi rispetto a quelli alti con molte persone di ridotta statura a corte le ragioni di questa preferenza sono ad oggi ignote i faraoni beneficiavano certamente di un'alimentazione maggiormente nutriente rispetto al resto della popolazione e una predisposizione genetica alla grande altezza poteva svilupparli in modo più naturale rispetto agli altri abitanti della valle del nilo è interessante notare come nella prima fase del periodo dinastico fra il 2925 e il 2575 avanti cristo l'altezza media degli egiziani fosse superiore di quasi 10 centimetri rispetto a quella del nuovo regno fra il 1550 e il 1070 avanti cristo 169 contro 161 centimetri nel nuovo regno il faraone più alto fu certamente ramses secondo che visse fra il 1303 e il 1212 che raggiunse il metro e 73 di altezza decisamente modesto se pensiamo all'altezza media odierna che in italia ad esempio è di 178 centimetri circa lo storico di odoro siculo riporta un'iscrizione di una statua di ramses secondo che recita se qualcuno vuole sapere quanto grande io sia e dove giaccio superi qualcuna delle mie imprese un epigrafe che ci consente di comprendere quanto fosse importante la considerazione della statura e non solo delle imprese militari al tempo dei faraoni dall'antico egitto passiamo ora la spagna moderna facendo un salto indietro di qualche anno per vedere una condizione di gigantismo che non è naturale come per le persone semplicemente molto alte ma è la manifestazione di una malattia molto grave che si chiama acromegalia agostin luengo capia conosciuto come il gigante dell'estremadura nacque nel 1849 in una famiglia molto umile che viveva a puebla de alcosser nella zona dell'estremadura in spagna nessuno oggi saprebbe della sua esistenza se non fosse per la malattia di cui soffriva che si chiama acromegalia detta anche gigantismo genetico la storia racconta che agostin visse un'infanzia tutto sommato normale anche se la sua salute era piuttosto cagionevole poi verso i 12 anni iniziò a crescere in maniera eccessiva raggiungendo l'altezza di 2,35 metri la causa di questa anomalia era una malattia la cromegalia che fu descritta per la prima volta soltanto alla fine del diciannovesimo secolo la causa scatenante è un tumore dell'ipofisi associato a un eccesso di ormone della crescita agostin all iniziò a lavorare in uno di quei circhi molto diffusi all'epoca nei quali le principali attrazioni erano gli esseri umani affetti da qualche rara malformazione tristemente noti come fenomeni da baraccone nel circo che viaggiava attraverso tutta la spagna agostin si esibiva nascondendo in ciascuna delle sue enormi mani lunghe 40 centimetri una pagnotta di pane da un chilo la sua fama era tale che come riportato sul sito del museo a lui dedicato nella sua città natale fu presentato al giovane re alfonso dodicesimo il 3 ottobre del 1875 in quegli anni del tardo diciannovesimo secolo a madrid il dottor pedro gonzalez de velasco stava iniziando a raccogliere materiale per il suo gabinetto di curiosità con oggetti inerenti diverse discipline come la storia naturale l'etnografia e l'archeologia per realizzare questo progetto germe del futuro museo nazionale di antropologia il medico ebbe l'aiuto del marchese decubas che fece costruire l'edificio agostin si trovava a madrid sofferente per dolori alle articolazioni e ormai prossimo alla cecità indotta dalla sua acromegalia il 18 ottobre del 1875 fu costretto a rimanere a letto assistito da un medico di un'associazione di beneficenza un resoconto ufficiale afferma che il caso di agostin arrivò alle orecchie del dottor velasco interessato allo studio delle malattie genetiche dopo averlo esaminato il medico propose uno strano accordo al ragazzo avrebbe ricevuto un compenso di 2,50 pesetas al giorno in cambio del suo corpo che alla sua morte sarebbe andato ad aggiungersi alla collezione privata del medico concludo il mio racconto da un luogo bellissimo qui da brisighella e sono in cima perché sono più o meno all'apice del del paese dove c'è la rocca veneziana e da cui si vede la torre dell'orologio qui ed è bellissimo il panorama è stupendo agostin accettò la proposta perché quella cifra gli consentiva di vivere senza più doversi esibire nei circhi peccato che sopravvisse solo qualche mese morì a madrid il 31 dicembre del 1875 all'età di 26 anni due giorni dopo il dottor velasco reclamò il corpo esighebendo un regolare contratto notarile di agostin rimane oggi un calco in gesso e lo scheletro mentre un altro reperto un calco ricoperto con la pelle del ragazzo finì perduto negli anni successivi alla sua morte la storia del gigante dell'estremadura suscitò un vivo interesse tanto che molte personalità importanti dell'epoca tra le quali l'imperatore del brasile con la consorte e alberto primo di monaco si recarono in visita alla collezione privata del dottor velasco oggi la memoria di agostin luengo capia è tenuta viva nella sua città natale dove si trova un museo a lui dedicato il museo del gigante extremenio grazie a tutti Grazie per la visione!